Torna a Napoli finalmente in presenza la Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo contro i tumori del seno. Due giorni di prevenzione, sport e solidarietà con l'apertura del villaggio della salute, dove grazie alla presenza delle quattro unità mobili di Come in Italia e alla collaborazione di medici specialisti saranno offerte gratuitamente consulenze, visite ed esami strutturali per la diagnosi precoce dei tumori del seno, dei tumori ginecologici, del colon retto e della pelle, in particolare a donne che vivono condizioni di disagio sociale ed economico. Sarà inoltre possibile partecipare a numerose attività sportive, di fitness e di promozioni di stili di vita sani, mentre per i bambini sarà allestito un campo di pallavolo con istruttori del progetto S3 della FIPAV. Io credo che il tema della salute, che è un altro tema che sta molto a cuore al sindaco e al comune, è un tema fondamentale, questo vale per tutti, ma soprattutto nei quartieri più difficili, nei quartieri più disagiati, è molto importante avviare delle attività di prevenzione che siano sempre più articolate e intense, insieme ovviamente all'ASLE, a tutte quelle che sono le istituzioni deputate, perché noi sappiamo bene che la Campania e Napoli ha un problema grande, cioè che l'aspettativa di vita nella nostra città è più bassa rispetto alla media nazionale. Questo è un fatto molto grave perché io ho sempre detto che il nostro paese deve avere diritti e doveri uguali per tutti e questa è una battaglia che porteremo avanti. Domenica mattina alle 10, a partire da Piazza del Plebiscito, ci sarà poi la Race for the Cure e quest'anno per le restrizioni legate al Covid-19 la tradizionale mini-maratona sarà sostituita da una passeggiata che percorrerà festosamente le vie del centro di Napoli. È ancora possibile partecipare registrandosi su www.raceforducure.it o direttamente in Piazza del Plebiscito. Con una donazione minima di 13 euro si ricevono lo shopper e la maglia ufficiale della manifestazione, oltre a contribuire alla raccolta fondi per sostenere i progetti di tutela della salute femminile di Comen in Campania. Grazie.